Buonasera e ci vediamo nuovamente per un altro argomento. Questa sera parliamo del licenziamento del lavoratore. Allora, il licenziamento, c'è una grande giurisprudenza, il licenziamento va fatto per iscritto, quindi questo è un avvertimento che io do ai datori di lavoro. Quando c'è il lavoratore, se ne va dal posto di lavoro, litiga col datore di lavoro, oggi me ne vado, prendo e se ne va. Il datore di lavoro non deve stare tranquillo, deve comunque mettere per iscritto il licenziamento perché poi è difficile andare a provare il cosiddetto licenziamento orale, perché la giurisprudenza dà particolarmente ragione al lavoratore, nel senso che grava sul lavoratore provare il cosiddetto licenziamento orale, cioè che è stato buttato fuori dall'azienda o che è stato buttato fuori dal determinato esercizio in maniera orale. Grava invece sul datore di lavoro andare a dimostrare che non si è trattato di un licenziamento ma che si è trattata di una dimissione o in qualche maniera di un atto del lavoratore che in qualche maniera faccia integrare un abbandono ingiustificato del posto di lavoro. E allora i datori di lavoro devono stare particolarmente in guardia quando il lavoratore va via senza avvertire e senza nulla. Non possono far decorrere il tempo e non possono aspettare che arrivi l'impugnativa del licenziamento. Un altro elemento importante è che il lavoratore che viene ad essere licenziato, se siamo nelle cosiddette aziende con più di 15 dipendenti in ogni unità lavorativa ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le mensilità che sono state maturate dal giorno del licenziamento in poi. Al contrario se invece l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori non opera quando invece l'azienda è a sotto i 15 dipendenti perché allora il lavoratore ha diritto soltanto al risarcimento del danno nella misura massima di 5 mensilità corrispondenti all'ultimo stipendio percepito. Ovviamente le questioni tra lavoratore e datore di lavoro sempre di più vanno davanti al tribunale e bisogna tener conto che il lavoratore deve provare qual è l'onere della prova e creare su di lui quando lui chiede la cosiddetta tutela reale, cioè il fatto di essere reintegrato nel posto di lavoro oltre che la tutela obbligatoria che è quello del risarcimento del danno. Quindi sia il lavoratore che il datore di lavoro devono stare attenti quando si interrompono i loro lavori. Molto più facile sarebbe trovare un accordo che va comunque sottoscritto davanti alle associazioni interconfederali perché altrimenti non ha validità e può essere impugnato dal lavoratore sempre nei due anni a partire dal giorno dell'accordo. Vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento.